Che lei mangiava dentro? Ui, è sempre buono fissi! Mi ha mai comprato una mamma? Cosa hai venito in America con un Babybel? Mamma mia, guarda dentro le latte c'è! Sono da casa, sono da casa! No, no! Tavo lui, tanto! Un bello! Tavo lui! Tavo lui, tanto! ... Quanto rosco? No. Quanto rosco? No. Molto? No. E poi direi che sono euro. No. Cacca di cocco? No. Quella latte. Coconut water. No, il latte è buono. Coconut water. Cacca di cocco. E poi, no era. Sogniamo? No. Signiamo. Un voce. Un voce. Un voce. Un voce. Cos'è l'Enderberry? E? Cos'è l'Enderberry? Non lo trovo Qualcosa vuole more? No? Non lo trovo Quante? Quante? Una Quante? Com'è che costano tante? Un'altra 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 Cos'è? Un'altra Ma guarda che sta molto grande Le portare via Grazie a tutti. 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 No, no, no. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Buona?